Elas Verona Elas Verona, ufficiale l'arrivo di Kenny in prestito secco, Pazzini resta insieme a lui Elas Verona. Prima di tutto però i gialloblu hanno risolto il loro primo buco nel reparto, andando a contattare la Juventus nell'ottica di riuscire ad ottenere le prestazioni di Moise Ken. Ovviamente i bianconeri hanno subito scartato l'ipotesi di un trasferimento a titolo definitivo, ma anche di una clausola di riscatto o controriscatto. L'unica soluzione rimasta, quella del prestito secco, è stata quella giusta, forte anche della spinta della gente del classe 2000, Mino Raiola, i veronesi sono riusciti a rompere la resistenza dei torinesi che però hanno avviato le pratiche. A meno di un quarto d'ora dal gong finale della chiusura della sessione, il contratto è stato però depositato in diretta televisiva a Sky ed il giocatore è pronto a questa nuova avventura, dove partirà però da riserva di un giocatore ben più smaliziato. Al contempo, intanto, in prestito in Piemonte arriverà il giovane Sane Adama. Perché, almeno di base, Pazzini resta e sarà anche titolare e chioccia del ragazzino. Non essendo l'Ellas Verona riuscito infatti ad acquistare anche una punta d'esperienza, e non volendosi, legittimamente, affidare ad un 17enne, l'ex Sampdoria è stato quasi obbligato a restare dove e da tenersi i propri mal di pancia. Seguendo lo stesso ragionamento, il Sassuolo, la squadra in cui il pazzo si sarebbe accasato, non ha lasciato andare via Alessandro Matri, che resterà dunque come riserva di Falcinelli dopo aver cercato di forzare la partenza, ma nemmeno più di tanto, verso il Parma, che poi ha preso Ceravolo. E si conclude, così, il mercato dei Veneti, con botto.